Tartardi, gamberi rossi, cipolla rossa, arance, pomodori, confiti. Tartardi, salmerino e le sue uova. Il mio vitello tornato. Innanzitutto puoi dirle che non è la fine del mondo, perché non mi sembra che questa sia proprio la fine del mondo, anzi. Ma poi, sterminati con cosa? No, con i rangi lati. Con i rangi lati! Ma poi perché deve succedere proprio oggi che è Capodanno? Cioè, perché è proprio il 31, ma cosa ne sanno ora, no? Che cos'è? Lui è arrivato, si è piantato lì, boom, fermo, immobile, non fa niente. Però comunque ha messo tutta la roba. Sai perché io sono contento che sia arrivato? Perché ha fatto uscire tutti i furiti che restavano.